E' stata avviata un'indagine dall'Unità di Crisi Regionale mirata per l'analisi dell'aumento dei campioni positivi registrati in Campania nelle ultime settimane in relazione a possibili varianti del virus. Lo studio di sorveglianza epidemiologica condotto da Istituto Zooprofilattico TIGEM e Cotugno prende in esame la diffusione territoriale del contagio attraverso il campionamento dei casi positivi e ha già verificato che la percentuale di incidenza della cosiddetta variante inglese in Campania, in media con quella nazionale, è attestata al 25%, un caso su quattro dunque. E' questa la principale motivazione per mantenere altissima la guardia e per cui si richiede un lavoro ancora più intenso di controllo sui territori e sui contatti diretti dei positivi con variante inglese. E' in atto un'azione di monitoraggio costante sulle difficoltà di varianti ed è ancora più urgente che vi siano a disposizione i vaccini necessari per continuare in maniera sempre più massiccia la campagna di vaccinazione in corso.